Salve a tutti, parte la procedura di aggiornamento delle GAE. Con decreto numero 60 il Ministero dell'Istruzione ha infatti dato avvio alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di esaurimento. Sarà possibile presentare le relative domande esclusivamente tramite la funzione istanza online del portale del Ministero dell'Istruzione a partire dal 21 marzo fino alle 23.59 del 4 aprile. Chi potrà partecipare a questa procedura? Il personale già inserito in GAE potrà chiedere l'aggiornamento del punteggio dichiarando tutti i titoli culturali e di servizio conseguiti successivamente al 16 aprile 2019. Il personale che è stato precedentemente cancellato dalle graduatorie per non aver presentato domanda di aggiornamento di permanenza in graduatoria avrà la possibilità di chiedere il reinserimento in GAE presentando l'apposita domanda e verrà reinserito con il punteggio posseduto al momento della cancellazione salva la possibilità di chiederne l'aggiornamento indicando i titoli culturali di servizio successivamente conseguiti. Sarà necessario per il personale già inserito in graduatoria anche se non ha punteggi da aggiornare presentare la domanda di permanenza appena la cancellazione dalle graduatorie. Dovrà presentare la domanda di permanenza anche il personale inserito con riserva che non ha ancora conseguito il titolo o il personale inserito con riserva che nel frattempo ha conseguito il titolo e quindi potrà chiedere lo scioglimento della riserva. Per quanto concerne gli elenchi di sostegno, il personale che ancora sta frequentando il corso finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione di sostegno potrà chiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi con riserva e potrà sciogliere la riserva se conseguirà il titolo entro luglio 2022. È la stessa cosa per il personale che ha conseguito il titolo di sostegno all'estero ed è in attesa di riconoscimento dello stesso da parte del Ministero. Arrivederci.